È un congresso molto importante che faremo a Fano, al Tag Hotel, che sottolineo è aperto a tutta la cittadinanza. Sono passati 5 anni dall'ultimo congresso, un congresso importante perché sono cambiate tante cose. Rispetto a 5 anni fa abbiamo due grosse emergenze, l'emergenza immigrazione e l'emergenza terrorismo, che assorbono tantissime energie. E siccome noi siamo sempre di meno, perché purtroppo col blocco del turnover tutte le persone che vanno in pensione non vengono impiazzate. Quindi è un congresso che focalizzerà soprattutto una questione, che i poliziotti devono fare i poliziotti, che è anche poi quello che vorrebbero fare. Nel senso che dovremo cercare veramente di convincere il governo, i nostri politici a fare delle radicali riforme. La polizia deve fare la polizia. Dobbiamo togliere alle polizie tutte quelle pratiche burocratiche, amministrative che impiegano tante persone. Anche a Fano, presto nell'arco dell'anno prossimo, ci saranno delle fuoriuscite. Qual è la situazione? Poi Fano, per Fano noi abbiamo veramente cercato, per una reale sicurezza, reale nel senso che noi tante volte abbiamo cercato di fare le varie di fascia a Fano, una città con 60 mila abitanti che ha 40 uomini organici. Una cosa assurda, soprattutto una città costiera che vede ad estate un forte aumento della popolazione. Non dimentichiamo una cosa, proprio all'inizio di quest'anno il procuratore generale della Corte di Appello di Ancona ha lanciato l'allarme infiltrazioni mafiosi nel nostro territorio. In tutte le marche sono già stati sequestrati 58 immobili e aziende ad associazioni criminali. 40 solo nella nostra provincia, soprattutto nella provincia di Fano. E a Fano nel prossimo anno, nei prossimi due o tre anni, andranno in pensione 7-8 persone, che poi sono anche quelle persone che hanno per tanti anni portato avanti il commissariato, che hanno una forte esperienza soprattutto nel settore investigativo. Come li rimpiazzeremo? Cosa faremo? Come li rimpiazzeremo?